Hanno rubato un escavatore da un'azienda di costruzioni, ma nella fuga qualcosa è andato storto. A far saltare i piani dei malviventi questa volta non sono state le forze dell'ordine, ma un cavalcavia troppo basso per permettere il passaggio del mezzo pesante. E' accaduto sulla tangenzere di Bari nei pressi dello svincolo per Santa Caterina. Qui è terminata la corsa di alcuni ladri ancora non identificati che la notte scorsa, intorno alle 4, hanno portato via un escavatore da un'azienda della zona industriale. Dopo averlo caricato su di un rimorchio, infatti, si sono messi in marcia lungo la circonvallazione in direzione sud, ma arrivati all'altezza del ponte sono rimasti bloccati. Così hanno proseguito a piedi, abbandonando il mezzo rubato al centro della carreggiata. In genti i danni riportati dalla struttura, nell'impatto, sono caduti diversi calcinacci. Sul posto, fin dalle prime ore di questa mattina, è intervenuta una squadra di operai per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. A seguire le operazioni, alcuni agenti della polizia stradale. Ma ancora più grandi sono stati i disagi per gli automobilisti. Ralentamenti e codi si sono registrate per diversi chilometri lungo la tangenziale. Bloccate di riflesso anche le principali vie d'accesso al centro abitato.